Benvenuti! Siamo con il professor Giovanni Mento, psicologo e docente del studio di Paola, coordinatore del gruppo di ricerca NeuroDEL. Benvenuto, professore. Grazie, grazie mille per l'invito, come sempre. Professor Mento, generalmente tendiamo a trattare gli studi del neurosviluppo in base alla classificazione piuttosto che al vero funzionamento cognitivo dell'alunno. Cosa cambia in un approccio basato sul funzionamento cognitivo? Certo, grazie per questa domanda. Si farai una piccola breve premessa introduttiva su cosa sono i disturbi del neurosviluppo, e cioè un'ampia casistica di situazioni diverse che riguardano l'età evolutiva, e ci tengo molto a precisare che non si tratta di malattie o di patologie, come spesso ancora vengono considerate, ma sono, diciamo, delle condizioni di neurosviluppo atipico, cioè sono praticamente dei modi di essere che hanno una chiara origine neurobiologica, riconosciuta anche dal punto di vista delle basi genetiche. Non si sa ancora bene quali sono i meccanismi coinvolti, però di fatto appunto siamo nell'ambito di quello che è una condizione piuttosto che un evento, una situazione patologica. Ecco, normalmente quello che succede è che quando vengono segnalate delle difficoltà o dalla famiglia o dalla scuola, insomma, si procede verso il percorso diagnostico. Il percorso diagnostico che viene di solito fatto da due figure professionali, può essere il neuropsichiatra infantile o lo psicologo di solito, e quello che si cerca di fare nella maggior parte di questi casi è vedere se sono soddisfatti i cosiddetti criteri diagnostici, per arrivare appunto a quella che è la diagnosi, diciamo, categoriale o di primo livello, che è la famosa etichetta fondamentalmente. Quindi attraverso questo percorso si arriva ad identificare la diagnosi come per esempio disturbo dello spettro dell'autismo, piuttosto che deficit dell'attenzione e di iperattività, oppure un disturbo specifico dell'apprendimento e così via. È però importantissima, collegandomi alla domanda, dire una cosa, che il percorso diagnostico innanzitutto si basa prevalentemente su criteri di tipo clinico, non ci sono dei marcatori, degli aspetti oggettivamente rilevabili che permettono di fare diagnosi. La letteratura ci sta sempre più dicendo che per quanto ancora si continui a cercare l'elemento che possa permettere di fare diagnosi in maniera appunto sicura, come può accadere in altri contesti, questo ancora non esiste. Quindi è tutto rimandato all'esperienza di chi fa il percorso diagnostico. È però appunto al di là di questo fondamentale ricordare che la diagnosi deve sempre essere il punto di partenza e mai il punto di arrivo del percorso diagnostico. Questo è un primo aspetto fondamentale, perché arrivare a porre un'etichetta di per sé è un percorso estremamente incompleto se non ha lo scopo di, da una parte, permettere alle famiglie di accedere agli strumenti tutelativi di legge, quindi legge 170 nel caso dei disturbi dell'apprendimento, legge 104 nel caso della disabilità. E quindi è importante avere un'etichetta, un codice, anche per lo scambio di informazioni tra professionisti. Però ecco, il secondo passaggio fondamentale che si deve fare, che purtroppo non sempre viene fatto, è quello di andare a caratterizzare il profilo. Quindi capire, al di là del nome che noi abbiamo dato alla diagnosi di chi, di cosa stiamo parlando, cioè di qual è il bambino, la bambina che abbiamo davanti. Quindi bisogna procedere con un'analisi, una diagnosi cosiddetta di secondo livello o funzionale, in cui si vanno a guardare tutti gli aspetti che hanno a che fare col profilo della capacità di regolazione delle emozioni, il livello di capacità di interazione dal punto di vista sociale, il profilo cognitivo neuropsicologico e il profilo intellettivo. Quindi bisogna sempre tener conto che, siccome tutti noi siamo estremamente diversi, pur appartenendo alla stessa, diciamo, categoria, quindi vuol dire che pur avendo la stessa diagnosi, per esempio, di autismo, due bambini non saranno mai uguali tra di loro e proprio questo è il motivo per cui dobbiamo approfondire e capire bene come funzionano. Questo è il passaggio fondamentale per permetterci di aiutarli. Se non si fa questo passaggio, stiamo facendo un percorso che rischia di fare più danni che altro, purtroppo. Ecco, questo tipo di approccio che lei c'ha appena descritto ci permette di non restare imbringhiato all'interno della diagnosi. Quali sono i vantaggi e le difficoltà di operare secondo questa modalità? Allora, diciamo, i vantaggi di operare attraverso una caratterizzazione del profilo appunto vuol dire avere un'idea abbastanza chiara di quali sono le caratteristiche di funzionamento di quella persona in vari contesti. Quindi capire quali sono i punti di forza, i punti di debolezza che al netto della diagnosi caratterizzano il modo di stare nel mondo, nella relazione e il modo appunto anche di rispondere alle richieste ambientali dei bambini. Ad esempio nel caso, diciamo, del mondo scolastico, quindi parliamo della sfera dell'apprendimento, quello che è fondamentale capire è che a parità, per esempio, di una diagnosi, di un disturbo dell'apprendimento, quale può essere la dislessia, e diciamo i profili sottostanti possono essere estremamente diversi tra di loro. Quindi possiamo avere dei bambini che pur avendo una chiara difficoltà o disturbo di lettura, nel senso di una lettura molto lenta o una lettura molto inaccurata o entrambi i casi, in realtà quello che può accadere è che in un caso possiamo avere una difficoltà anche sul versante dell'attenzione, sulla difficoltà a mantenere il controllo dell'attenzione nel tempo, una debolezza, una fragilità di altre caratteristiche di memoria e di lavoro, o anche aspetti legati a meccanismi di regolazione attentiva e a regolazione anche emotivo. Questo vuol dire che andare a capire esattamente attraverso gli strumenti che i professionisti hanno a disposizione qual è il profilo ci permette di collocare quel bambino all'interno del suo mondo, dandogli molte più opportunità rispetto a quanto non gliene si possa dare semplicemente identificandolo all'interno di una categoria e permettendogli di accedere agli strumenti dispensativi e compensativi, che sono fondamentali, ma in assenza di un profilo funzionale, e quindi di un ulteriore livello di approfondimento, rimangono degli strumenti decisamente molto limitati. Ecco, si parla spesso di un eccesso di integralizzazioni della scuola e di docenti che anziché fare gli insegnanti si trovano a fare gli psicologi. A tal proposito, come supportare i docenti nella scelta dei percorsi educativi sui doni dell'alunno nel rispetto del proprio ruolo? Sì, allora, in effetti, diciamo, la relazione che c'è da una parte tra il mondo dei professionisti clinici, cioè tra coloro che hanno in carico per la diagnosi, per l'intervento, per la riabilitazione, insomma, bambini che hanno una diagnosi di disturbo del neurosviluppo, quindi loro e la loro comunità, quindi la loro famiglia, e tutti coloro che ruotano, che gravitano intorno al mondo del bambino, da una parte. Dall'altra parte, la comunità scolastica, ecco, è un'interazione piuttosto delicata che delle volte rischia di diventare esplosiva nel momento in cui siamo in presenza di una chiara diagnosi, una certificazione, quindi un'esigenza reale da una parte, e dall'altra parte delle volte può capitare, diciamo, una scuola che non sempre è in grado, ma non per mancanza di competenze, ma spesso di opportunità, di risorse, di strumenti, di capacità, di personale, di accogliere le necessità di questa persona. E da questo punto di vista, attorno al discorso di prima, perché la diagnosi, diciamo, puramente nosografica, quindi quella che si trovano nella relazione, anche nella certificazione, di per sé veramente non mette la scuola, non mette gli insegnanti in condizioni di capire che strategie pedagogiche, educative, relazionali sviluppare, in assenza di un profilo funzionale che mi possa far capire fondamentalmente in che modo quel bambino, cioè di che cosa quel bambino ha bisogno, su quali elementi io posso agire. Faccio un esempio molto banale. Se siamo in presenza, per esempio, di una situazione in cui abbiamo un bambino che oltre ad avere un disturbo dell'apprendimento ha una grande fragilità dell'attenzione, quindi una capacità di distrarsi molto alta, e ecco, è importante che da quel punto di vista la scuola metta in atto il più possibile delle situazioni, diciamo, degli accorgimenti per evitare una situazione dal punto di vista sensoriale estremamente distraente, perché questo è qualcosa che non facilita l'apprendimento del ragazzo. Cosa diversa è se invece abbiamo soltanto un problema limitato alla sfera dell'apprendimento, della lettoscrittura, in assenza di altre caratteristiche legate alla fragilità attentiva, e con quel caso ci si deve relazionare in maniera diversa. Quindi rimane centrale il fatto che bisogna instaurare un rapporto molto costruttivo, molto stretto tra il mondo, diciamo, della sfera clinica e la sfera scolastica, e che deve interagire per il bene della persona da questo punto di vista. Quindi bisogna trovare, cosa che è già prevista, tra l'altro, diciamo, a livello legislativo, diciamo, dei tavoli di confronto proprio per le situazioni individuali, in cui si va a vedere proprio le caratteristiche di funzionamento di quella persona per proporle il meglio che si possa fare. Ecco, chiudiamo con un'ultima domanda. Per evitare il paradossi che abbiamo appena analizzato in questa domanda, come avrebbe strutturata un'equipo di supporto per i docenti vendendo la scuola? Beh, allora, sì, certo. Da questo punto di vista credo che sarebbe molto importante poter accedere a quelle che sono le risorse legate, per esempio, alla formazione in ambito di psicologia scolastica. Ci sono attualmente dei percorsi formativi specifici, dei master e anche altre opportunità formative proprio per permettere di formare professionisti che possano operare all'interno del mondo della scuola, che non significa fare le diagnosi dentro la classe, non significa fare gli interventi dentro la classe, ma significa, per esempio, creare il collante, il legame tra, per esempio, il corpo docenti e appunto il sistema sociosanitario, sia pubblico che privato, insomma, che ha in carico i bambini con particolari difficoltà, nel caso, per esempio, dei disturbi del neurosviluppo. Questo è vero anche nel caso della disabilità fisica, ovviamente, ma soprattutto nel momento in cui abbiamo bisogno di strutturare un momento di incontro tra quelle che sono le necessità del bambino, della bambina da una parte, e quello che sono le esigenze del corpo docenti legate al mondo dell'organizzazione, della didattica, è ancora più importante che si crei una sinergia tra queste figure. Quindi, secondo me, rimane centrale il ruolo di una figura che possa interagire all'interno della scuola, quindi che sia una persona strutturata all'interno della scuola, che abbia delle competenze per poter mettere in relazione, ripeto, diciamo, le necessità del mondo scolastico, da una parte, con le competenze per comprendere quello che è il reale bisogno, le reali esigenze dal punto di vista del funzionamento del bambino. Ecco, altrimenti quello che si rischia delle volte è che ci sia un momento di difficile interazione, di difficile integrazione tra il bambino che si trova ad avere davanti a sé una diagnosi funzionale, una certificazione, le sue caratteristiche, il suo mondo di problemi che si porta appresso, spesso delle famiglie magari anche, diciamo, un po' problematiche e poco funzionali, problemi legati poi anche all'autostima e tutto quello che dal punto di vista poi, diciamo, emotivo ne consegue dal trovarsi in una situazione di difficoltà dell'apprendimento, per esempio, o di altra natura. Ecco, si rischia appunto che queste situazioni possano rimanere irrisolte proprio perché manca un ambito, un momento, un tavolo di mediazione. Ecco, quindi è fondamentale da questo punto di vista la figura di uno psicologo, una psicologa scolastica che possano operare in tal senso, dal mio punto di vista. Grazie, professor Nen, dove sei stato con noi? Grazie. 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 Grazie.